Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi vi parlerò del romanticismo. Se vi immaginate il romanticismo come cuoricini, cene a lume di candela e amori romantici, beh, vi sbagliate di grosso. Per scoprire che cos'è il romanticismo, come si è sviluppato, dove è nato e quali sono le sue caratteristiche, guardate questo video. Per approfondire la storia, invece, andate sul mio blog. Troverete un articolo qui sotto. Il termine romantic, da cui deriva poi la parola romanticismo, compare in Inghilterra. Siamo nella metà del Seicento. Il Seicento è il secolo della rivoluzione scientifica, ma è anche il secolo di una grande crisi. Crisi sociale, economica, demografica. Dunque, la parola romantic, soprattutto nel Seicento, è vista in modo spregiativo. Qualcosa di romantico e qualcosa di fantastico, di ideale, di assurdo. Nel Settecento, oltre al significato di non reale romanzesco, abbiamo anche quello di pittoresco. E arriva in Germania una patria interessata alle leggende e ai canti popolari. Sarà alla fine del Settecento, con Rousseau e la sua nuova Eloisa, che il romanticismo inizierà anche ad essere un non so che di magico, di sovrannaturale, qualcosa che rapisce lo spirito e anche i nostri sensi. Il romanticismo è un movimento letterario, culturale ed artistico che nasce alla fine del Settecento, contemporaneamente in Germania e in Inghilterra. Il nucleo programmatico del romanticismo risiede nella rivista Ateneum dei fratelli Schlegel, che è stata pubblicata nel 1798. Non dobbiamo dimenticarci di citare però lo Sturmundran, questo movimento pre-romantico che però influenzerà moltissimo il romanticismo. Infatti questi due termini tedeschi vogliono dire sconvolgimento e impeto. E già ci fanno pensare ai valori romantici. Nel corso dell'Ottocento il romanticismo si contrappone ma anche procede di pari passo con quello che è il pensiero proposto dall'illuminismo. Il romanticismo prevede un idealismo che si contrappone al razionalismo. Allo stesso tempo i cittadini che credono fortemente nella luce della ragione sono dei cosmopoliti, dei cittadini del mondo. Mentre i romantici amano la loro nazione. Nazionalismo e storicismo di solito procedono a braccetto perché chi ama la propria nazione ha anche un modo di intendere la vita storico. Inoltre abbiamo due entità diverse che si scontrano. Da una parte la società borghese, dall'altra un'elite di intellettuali che detiene la ragione. I romantici hanno un senso di religiosità, mentre gli illuministi di fatto sono atei o tutt'al più deisti. Il mito dello spirito romantico è quello di Prometeo. Prometeo è un titano che ha rapito il fuoco agli dèi e ha voluto donarlo agli uomini. Zeus, allora inferocito, ha deciso di farlo incatenare e per punizione lo ha costretto ad una fine nefasta. Una fine che peraltro non finisce perché la sua pena è continua. Infatti è condannato a farsi divorare da un'aquila il fegato. Proprio da questo mito si sviluppa il titanismo, una sorta di vitalismo eroico abbracciato dagli uomini romantici. Però non possiamo essere tutti dei vincenti, tutti degli eroi e quindi, contrapposto al titanismo, c'è il vittimismo. Di quegli eroi che in realtà non riescono a portare a termine la loro impresa e sono un po' abbacchiati per il fallimento. Il romanticismo circola, si diffonde nelle istituzioni culturali. Nascono i salotti, i centri culturali e anche la scuola pubblica permette la veicolazione di idee. Durante il romanticismo abbiamo vari generi, in particolare legati a quello che è il romanzo. Gotico, fantastico, storico, realistico e sociale e anche sentimentale. Icona del romanzo gotico è sicuramente Frankenstein di Mary Shelley. Ricordatevi che Frankenstein non è l'orrido mostro che tutti noi conosciamo, ma è il dottore che, con parti dei cadaveri, ha costruito un corpo senza anima. E questo mostro, fortissimo, arriva talmente tanto ad odiare il suo creatore che decide di ucciderlo, per poi scomparire. E che dire del genere fantastico, che interpreta il romanticismo dal punto di vista irrazionale. Chiamatemi Ismaele, vi dice qualcosa? È uno degli incipit più famosi della letteratura. Stiamo parlando di Moby Dick, il libro di Herman Melville, lo scrittore statunitense. Moby Dick è una balena bianca che per tutta la vita viene inseguita dal capitano Aqab. Questa storia è raccontata da Ismaele, l'unico superstite di questa caccia folle alla balena bianca. Il romanzo storico, che è stato iniziato da Scott con il suo Ivano, mentre in Francia si realizza con Le Miserable di Victor Hugo. Il maggiore romanzo storico in Italia è I Promessi Sposi. In Francia troviamo diversi romanzi che appartengono al filone realistico e sociale, che fotografano la società e le sue trasformazioni. Infine il mio preferito, il romanzo sentimentale, che si basa su intrighi, amori, passioni e avventure, come nel romanzo di Emily Bronte, Cime tempestose, Dove Heathcliff soffre in modo profondo per la sua Catherine. Per i romantici la poesia è un infinito. Sempre caro mi fu quest'armocolle e questa sieve. Al centro della nostra esistenza c'è il poetale e la poesia si configura come un'intuizione pura. In Italia il romanticismo si diffonde, ma provoca le ire dei classicisti. A proda in Italia, in seguito ad un articolo scritto dalla scrittrice francese Madame de Stel, che invita a svecchiare la letteratura italiana. Nello stesso anno Giovanni Bershè risponde con la lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo. Grisostomo Boccadoro fa finta di scrivere a suo figlio e gli dà una serie di consigli letterari. Bershè sarà anche uno tra i redattori del Concegliatore, rivista milanese organo del romanticismo. Al dibattito romantico hanno partecipato Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi, che sono indubbiamente i due autori più importanti del primo ottocento italiano. Grazie per aver guardato questo video. Vi ricordo di lasciare un commento qui sotto se avete delle domande, o anche solo per supporto, lasciare un piccolo mi piace e iscrivervi al canale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.